Musica Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video in cui mostro la bellissima faccia da culo Ragazzi sono tornato per dirvi appunto che sono vivo, non sono morto e che purtroppo ho finito di fare video perché ho smesso di utilizzare il computer di conseguenza non ho più programmi da proporvi, da craccare, da mostrarvi e di quant'altro però ho una buona notizia ho intenzione di aprire un canale youtube con una mia amica dunque facciamo oh mio dio ciao ma sai che sto registrando un video? a dopo in questo video ti carico stavo dicendo avevo intenzione di aprire un canale youtube con una mia amica in cui facciamo appunto delle stronzate e adesso valutiamo appunto la situazione se lei può, se io può insomma stavamo valutando la situazione per poi appunto incominciare questo cammino a noi ci piace molto fare ridere la gente soprattutto quando si va anche in giro per i cazzi nostri facciamo tantissimi figuri di merda e appunto la gente è intorno a noi ridi premetto il canale che vorremmo aprire non consiste in prank potrebbero essercene ma non lo so non penso fondamentalmente è fondato per fare delle stronzate ma non è quel genere di stronzate quindi ragazzi anche se il video è corto vi ho fatto vedere che io esisto ho un volto ho un'identità e come potete aver notato ho cambiato il name dovrebbe essere cambiato la grafica dovrebbe essere cambiato l'universo quindi ragazzi io non ho altro da dirvi se magari avete bisogno di qualche grid per come installare un tot gioco un programma un qualunque cosa volete una mano ecco magari fatemi un commento qua sotto e lasciate like anche se il video è un po' corto ah non suonate bella quindi ragazzi per questo è tutto ci vediamo ad un prossimo video se ci sarà una prossima volta bella ragazzi ciao